Allora, ci sono macchine superlative che anche i non appassionati possono apprezzare. Quando si dice che le macchine italiane sono le più belle, si vede questo pezzo. Questa è la 2005, 6 cilindri tipo Villa d'Este, la chiamarono così perché ha visto un concorso di legazza a Villa d'Este negli anni del dopoguerra. Fu considerata la più bella Alfa Romeo che ha fatto l'Alfa Romeo nel dopoguerra. È un'auto di una straordinaria eleganza, delle linee veramente incredibili. Questi sono i lavori della carrosseria Turing, quindi tutti in alluminio. Però erano super macchine anche quando nascevano perché non credo che ne abbiano costruite tante. No, di questo tipo qui ne ho fatto 35-36, anche questa è una 2005. erano veramente dei privilegiati, le fecero proprio. L'Alfa ha sempre fatto dei tipi, delle serie per movimentare, non voleva essere una fabbrica che faceva le macchine, voleva fare le macchine che avessero uno stacco delle altre. Certo, in questo caso ci è riuscito a pieno. È certo che per un innamorato dell'Alfa come lei, avere questo pezzo non è stata una grande soddisfazione. È difficile trovarle. Questa è originale come è nata, perché a me piacciono non le macchine luccicanti, ma che siano come sono nate. Anche se sono consumate nel tempo, non fa niente, il tempo è quello lì. Quindi io quando ho trovato le altre, se le ho trovate complete, non è che le ho fatte restaurare tutto. Ho fatto restaurare solo quelle proprio che non si poteva, ma le rimanenti ho sempre cercato di fare un restauro di conservazione, perché la storia non si può cambiare. Effettivamente si capisce meglio ancora oggi cosa sia il mito Alfa Romeo anche all'estero, perché stavo guardando questa bellissima, che vettura è questa? Questa è un Alfa Romeo 2005 SS, che vuol dire Super Sport, ha tre carburatori, che è nato del 52-53, che è un 2 secco. Ma questo che forse era per il mercato americano? Anche per quello italiano, comunque è andata anche all'estero, tante. La vettura è bellissima. Che costava più di 3 milioni, quindi 3 milioni del 52-53 sono soldi. Sono soldi, sì. Comunque era il massimo della nostra. In tutte le riviste del mondo, perché lei è modesto e chi mi parla della sua collezione, citano questa Fiat Kiribiri, che io poi ricordo in un vecchio libro dove l'ho vista in una foto di bianco e nero, perché la usarono per fare il record. Sì, il record. Allora, venne fuori la Mephistopheles, che era la velocità. Mephistopheles, sì. Questa qui che era il record, poi l'Ital, la Parigi-Pechino, dell'Ital, la famosa. E in che anni siamo qui? Qui siamo, ma allora, qui un po' l'anno proprio esatto, comunque dovrebbe essere del 10 o del 12. 1910. 10 o 12, sì, dovrebbe essere. Ed è una macchina molto, molto strana, proprio fatta per... Come ha fatto a trovarla? Questa qui la troviamo io e il mio amico, che era a Fabriano, la troviamo, dove fanno la carta, l'aveva uno di là. Ho capito. Uno della famiglia, si chiamavano Migliani, quello. Ed era un motore che... Un motore. Quanti cavalli faceva? Oscar, vieni che gli facciamo vedere il motore. Ecco. Oscar, ci aiuti perché noi siamo curiosi, ma anche quelli che ci stanno seguendo. Ecco qua. Il motore è un bi-blocco, si chiama. Eccolo. Perché vedi, ha due blocchi. Quanti cavalli metteva assieme? Ah, questo ne fa, farà più di 100, io penso. Certo, più di 100 cavalli. Comunque come velocità ne fa, eh? Un chilometro lanciato, la va via bene. Senti Arghini, però, quest'auto, siccome in qualche modo suscita l'immaginario delle persone, so che è stata utilizzata per delle riprese cinematografiche, però tutta la sua collezione, io so che lei molto spesso riceve dal mondo cinematografico delle richieste perché certi pezzi si possono trovare solo qui, no? No, insomma, questa qui, per esempio, questa è stata usata per i film Ferrari, ma la più importante per i film su Ferrari è stata questa. Ah, questa. Che Castellito, che in porzione, in porzione, perificava, diciamo, Ferrari, usavo questa qui quando inizia, lo uso, per più di tutti ho usato questa. Ha usato questa. Lei temeva per le sorti della macchina? No, le tirocche, dopo che gli abbiamo insegnato a guidare, si comportava bene. Ma non è che l'ha guidata Castellito in persona? Ah, l'ha proprio guidata lui. Poi abbiamo usato anche la Nuvolari, con Nuvolari sopra, che poi ero io travestito da Nuvolari. Ah, quindi lei si è esibito perché nessun altro poteva guidarla? Non mi fidavo molto. E quindi è stato... Dopo quando arriviamo che si vede l'attore, so perché la Nuvolari io sono sesso, perché poi c'è dei trucchi nel cinema che lei non immagina neanche. Quindi se hanno voluto far muovere a Nuvolari hanno dovuto mettere Righini, il proprietario, al volante. Questo lo sa che non... Con Ferrari abbiamo iniziato qui il film Ferrari. Qui abbiamo fatto l'officina vecchia del babbo di Ferrari. Ah, l'avete allestito? Sì, poi dopo sono stato osservito il castello per un bel po'. Poi dopo siamo andati al Palazzo dei Rossi, a Bologno, a Sacrazolecchio, a Metravella. In tutto dove era ambientato il bellissimo film, devo dire. Senta, però questa che lei ha dato alla troupe che ha realizzato il film è un Alfa Romeo o che modello? Questo qui è una 3000 e diciamo è del 1926. Ma gliel'ha data ragione d'uta nel senso che proprio Ferrari... Ferrari l'hanno scelto perché doveva avere una macchina un po' importante. non poteva avere del 32, 33 o 35, quando si è incontrato, non poteva avere una barilla. Poi doveva andare anche un'Apriglia perché dopo lui del 39, 40 aveva un'Apriglia. Quindi è davanti alla macchina da presa, è tornata integra, perfetta. Qui quando c'è, se lei vedi fin quando inizia, c'è quel bimbo che attraversa, che le dà la frenata, che dopo c'è la maestra, che poi si innamorano. Si innamorano. Poi dopo lui andava con quella presta che le portava a spasso. Però Castellito le dirò che è una brava persona. Un autore che non è un caricato. Ne ho trovato dei caricati, ma lui no, veramente. Auto appartenute a grandi personaggi. C'è anche, qui vedo, un'auto... Ma siamo sicuri, Righini? Io di lei mi fido. La storia dice così, poi c'è. Che appartenuta a Benito Mussolini. La storia dice così. Ma nel senso che era un'auto di rappresentanza o era personalmente del Duce? No, per me era personale. Ah, ecco. Cioè era nel suo garage, insomma, assieme ad altre magari. Io l'ho comprata a Roma, questo. Però è provato che appartenesse a questo? Il libretto c'è, c'è tutto. Ah, c'è scritto proprio? Sì, sì. Benito Mussolini, Alfa Romeo, che Alfa Romeo è questa? Questa è una 1750. 1750. La trovata non in buone condizioni, vedo. No, volevamo adesso, purtroppo i cusini non c'erano più, stiamo vedendo di ricostruirli per farceli. Era comunque una bellissima auto. Sì, Alfa. Tieniamo calcolo che da presidenza del consiglio c'era anche loro, Mussolini, delle auto, ce n'erano. Ce n'erano, eh? Eh, certo. Io quando ho comparato al Ministero del Tesoro a Roma, comprammo 200 automobili, mio amico, ne avevano 500. Il Tesoro a ferme. Ce n'ho ancora uno che è una 2008, ce l'ho da un'altra parte. dietro ogni colonna di questa collezione si trovano dei pezzi eccezionali, ma c'è un pezzo particolarissimo che forse lei ci può illustrare. Questo qui è il primo esperimento che fece Bugatti, prima di fare l'automobile, assieme a Prenetti e Stucchi di Milano, che era un costruttore di moto, costruirono questo qui. Questo è un triciclo, no? Un triciclo, che ha fatto delle cose, anche una a Reggio Emilia che l'ha vinta e anche altre cose, c'è anche delle foto. Manti che anno è questo? È del 1896-1995. Accidente, e lui costruì questo, quindi motore a scoppio? Sì, c'erano due motori. Due motori? Due motori. Quindi sarà stato anche veloce? Sì, sì, ha fatto credo la media dei 70, 65, 70, 75, che allora era una media. E sempre sul confine della genialità di Bugatti lui inventò questo veicolo. E qui vedo però c'è una giunta che cos'è? Sì, questa è una cosa che hanno fatto dopo perché gli facevano fare...